Sono 25 i casi di covid accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Sono stati diagnosticati su 2.366 tamponi molecolari e 1.494 test antigenici processati con un tasso di positività di appena lo 0,6%. I nuovi casi hanno un'età compresa tra 9 e 88 anni, per lo più dalle province di Pescara e L'Aquila. Il numero totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza sale così a 74.314. Due i decessi di pazienti che erano positivi al coronavirus. Si tratta di due donne di 72 e 84 anni, entrambe della provincia di Chieti. Il numero complessivo delle persone decedute è così di 2.498. Nel bollettino odierno risalta il boom di persone dimesse e guarite ben 2.137, anche se il dato comprende casi non precedentemente comunicati dalle ASL relativi al periodo settembre 2020-aprile 2021. Il dato va a incidere dunque sul crollo degli attualmente positivi in Abruzzo, numero che rispetto a ieri si è quasi dimezzato da 4.575 a 2.461 con un decremento di 2.114 unità. Così come prosegue la flessione del numero dei ricoveri per covid in Abruzzo, sono 88 quelli ordinari, meno 3 rispetto a ieri, 6 quelli in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri, con nessun nuovo ingresso, mentre altri 2.367 pazienti positivi sono in isolamento domiciliare e con sorveglianza attiva da parte delle ASL.